Dal Comune di Foggia, atto concreto che recepisce le nostre osservazioni. A parlare il sindacato FAST e il riferimento è alla nuova stazione ferroviaria di alta velocità di Foggia. Nuova stazione e non fermata, precisa FAST attraverso il responsabile regionale Vincenzo Catanio. È una giornata particolare quella odierna in cui emerge ufficialmente, con argomentato atto amministrativo, l'impostazione complessiva delle osservazioni prodotte lo scorso 14 novembre con PEC al Servizio Urbanistico e Sviluppo Economico del Comune di Foggia, argomenta ancora Catanio. Una determinazione che recepisce ciò che FAST ha segnalato reiteratamente a livello nazionale. La stazione di alta velocità di Foggia è il cuore pulsante per la realizzazione del lab multimodale, insieme alla stazione centrale, all'aeroporto Ginolisa, alla piattaforma logistica di Incoronata e al porto altifondali di Manfredonia. E proprio grazie alle prescrizioni poste dal Comune, dovrà essere una stazione, non una fermata, connessa con le reti di alta velocità e alta capacità e con la rete stradale e alle altre infrastrutture puntuali. Auspichiamo ora un diverso e proattivo ruolo della provincia di Foggia, che finora non ha risposto alle nostre sollecitazioni. Al contrario del Comune, argomentano ancora da FAST, l'obiettivo successivo dovrà essere poter poi passare in tempi altrettanto brevi a discutere con la Regione Puglia, sia per gli aspetti legati al piano attuativo 2021-2030 del PRT, che per gli altri ambiti di programmazione come il PNRR, la ZES, il CEF 2021-2027 e la programmazione delle risorse ordinarie statali e la chiusura della nota del Sindacato Autonomo dei Trasporti.